Il primo lo segna Sorensen. Il secondo, quattro minuti dopo, Gunnar Nordal con un tocco magistrale ed è il pareggio per il Milan. Da questo momento crollo dei rossoneri. Gol di Fabri al quattordicesimo minuto. Cinque minuti e l'ex Juventino Caprile segnerà il terzo, al quale si aggiungerà subito il quarto, autore Sorensen. Va in fumo il sogno di vittoria del Milan, vanamente lanciato ad annullare il pesante passivo. Abbandonato dalla fortuna, tocca il fondo dell'abisso a metà della ripresa. Sorensen a Cergoli, che restituisce il passaggio. Lancio sulla destra la lanza smarcato e c'è tutto il tempo per calibrare la centrata. Sbaglia Cergoli, non sbaglia Caprile. E cinque. Ne volevano addirittura sette i tifosi atalantini. Sette come quelli rifilati alla Juve, alla Propatria e al Torino. Un discutibile rigore dà a Gren la magra consolazione di consegnare all'obiettivo un saggio della sua maestria. Cinque a uno, cinque a due, poco importa. L'Atalanta non ha fatto parzialità. Aveva battuto l'Inter e adesso ha battuto anche il Milan.